Ma vediamo se il soggetto non si avrà... Anch'io funziona poco dentro la via della conoscenza, mettilo da parte e guarda all'altro come quel che di mistero che mai potrai corriscere. E forse allora puoi scoprire che talvolta conta di più il fatto che questo essere riceva qualcosa senza poterci magari andare e che quel qualcosa possa sconvolgere e sradicare la sua vita e ripiantarla. Nessuno di voi mai potrà sapere qual è l'astrumento più opportuno e il mezzo più opportuno. Direi che da questo punto di vista qualsiasi altra giunta è fuori luogo, nel senso che ognuno certamente viene portato da un impulso. C'è un impulso molto forte che ti fa superare in un certo contestazione contestuale difficoltà che ad altri non sono capaci di superare. Per esempio, questo fa problema? Dal mio punto di vista assolutamente no. Questo può essere retto come metro di misura? Assolutamente no. Tanto questo insegnamento va dato, va lasciato andare e dove arriva arriva e ciò che porta porta. Non va a partire comunque né dove arriva né ciò che porta.